Buongiorno a tutti, stamattina si parte con il ragù bianco eccoci qua Eccoli qua i nostri coralli, questi non sono spiriti, sono coralli E' solo Mastro Sasà fa i coralli al posto degli spiriti Guardate qua, guardate Eccoli qua Coralli, coralli Ma sei sicuro che oggi è l'ultima? Sì, oggi è l'ultima Sì, oggi è il shopping E' inutile che fare Tua moglie ce la chiamate, è il shopping Ma ditemi che parecchio ciotto eh Ma era quasi con me Mi è capitata una tragedia Ma una tragedia che tu non puoi nemmeno immaginare Io oggi l'ultima mezza giornata Dove mi posso dedicare con mia moglie Allo shopping e regalo Che è capitato? Hanno messo con l'occhio a scuola i miei figli Tutti e tre Mia moglie deve stare fino a me Scusi, è un uomo Il ragù bianco non poteva mancare La nostra di Stagliotoni Come è passata una mezza giornata? Peppe, non commenta Allora, Vittor, ma che è successo? Dallo spicchio velocissimo Velocissimo e ricordate Iscrivete i vostri figli al liceo classico Ci saranno sorprese a mai finire Grandi sorprese Grandissime Allora ragazzi, non di me la foto Vittor, la fotografia la puoi fare? Peppe, la fotografia la posso fare Benissimo Però non mi chiedere niente per i regali No, non chiedere niente per i regali Tutto a posto Oggi come stanno le cose Io faccio mezza giornata E devo aspettare mia moglie che torna Dai colloqui a scuola Chissà che ora si farà Tre figli al liceo Tre Tre Salvatore Purtroppo dovrà spendere soldi Di te Non possiamo sapere niente Non vogliamo sapere Non diciamo niente A me me lo vuoi dire Perché non vuoi uscire più nei video Vittorio? Salvatore Io l'ultima volta che sono andato a casa Maria Mi ha detto Ma veramente me lo fa il lanello E io gli ho risposto Maria Senti ma noi stiamo scherzando Mentre lei stava facendo la pizza Mi ha preso con il mazzarello Signori buona giornata a tutti Da Salvatore Vittorio Peppe E un mattarello Cappacchissimo